Partono i lavori per Baia Flaminia, l'abbattimento di barriere architettoniche tramite un bando, un finanziamento vinto da questa amministrazione grazie al lavoro dell'assessore vice sindaco Daniele Vimini, un progetto denominato Market for All, un progetto che ci consentirà tramite investimenti e spese per progettualità e sentieristica polisensoriale di attivare tutta una serie di interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in Baia Flaminia. In particolare in un luogo super frequentato, un luogo bellissimo, all'Appendice del San Bartolo o nel San Bartolo, Campo di Marte e Baia Flaminia saranno presto accessibili fino all'acqua, anche per coloro che hanno mobilità ridotta, ipovedenti e persone sorde. Questo è un intervento di circa 140 mila euro, un intervento che consentirà da già attivate piste ciclabili di raggiungere la battigia di Baia Flaminia e godere dell'acqua, del mare e del bellissimo nostro parco San Bartolo, anche per coloro che hanno mobilità ridotta. Un intervento importante condiviso con le associazioni, legambiente ampi per citarne alcune, ma soprattutto con il consiglio di quartiere. Un intervento che permetterà sì da una parte di eliminare le barriere architettoniche per l'accesso alla battigia, ma anche di valorizzare un monumento molto importante per Pesaro, i pesaresi e la provincia di Pesaro Rubino. Il monumento ai tre martiri, un monumento che attualmente è collocato sul campo di Marte, in un luogo poco felice per la visibilità e per la storia di questi tre martiri uccisi in seguito all'occupazione nazifascista, ma che era valorizzato e rese anche questo accessibile all'interno dell'intervento di riqualificazione e di accessibilità di Baia Flaminia.